qui abbiamo due tifosi del lecce baroni viene presentato tra due giorni è contento di questo di questa scelta o si aspettava un altro con messa è una scommessa vedremo che cosa ne verrà fuori ecco lei un grande tifoso del lecce lo segui da molto tempo al mio amico roberto ecco il suo amico roberto lei per baroni votava per baroni oppure per un altro no penso sia una buona una buona opzione ovviamente facendo i dovuti scongiuri quindi speriamo bene alla fine vi è passata la lo sciocco della mancata promozione no ancora noi aspettiamo che si ricomincia a giocare per passare soprattutto con i tifosi in campo certo grazie molte tifosi che stanno qui al ristorante allora grandi tifosi grandi tifosi del lecce grandi tifosi tra due giorni presentano baroni cosa cosa ne pensate di baroni interessante però non è il massimo diciamo un incognito però un ex giocatore del lecce che magari non è stato un grande è stato un grandissimo giocatore problema della piazza del lecce sono i tifosi di creano le aspettative che pretendono di poter decidere stanno sempre a protestare o a creare ma rumori sicuramente baroni una persona valida ma questa era come giocatore come allenatore bravino quest'anno ci pensiamo da regina a cui ha fatto una bella partita nonostante aveva una squadra leggermente più scarsa nostri problemi le aspettative se gli prendono i giocatori che vogliono sentiamo gli altri signori e lei con non d'accordo anche se le aspettative dei tifosi è importante che vengano un po ridimensionate per questo sicuramente la nostra piazza è molto esigente no quindi le speranze sono che le prime partite ci siano dei risultati positivi altrimenti verrà subito messo in discussione io sono ottimista quindi speriamo che sia la squadra ce l'ha una domanda vi è passata la delusione per la mancata promozione in serie a o ancora ancora no ancora no perché era la portata quest'anno sarebbe stata veramente la portata il rigore di mancoso è rimasto ancora no non ne parliamo veramente stanno ne parliamo a me non cambia nulla ne ha fatte altre domenica giochiamo l'accuso ha fatto altri l'altro si spera che rimanga ma per c'è non l'ha fatto battere a coda a coda perché non l'ha fatto battere non sta va bene ma è una domanda che ci siamo fatti tutti penso che corvino qualche colpo lo farà col vino è bravo secondo me la squadra potrebbe essere rivoluzionata quindi ci saranno molte incognite grazie allora grazie grazie a voi la città è di sedia assolutamente eccoci qua con un'altra tavolata qui al ristorante allora lei è un tifoso del lecce cosa ne pensa di baroni si aspettava un altro nome o è meglio questo che ha già vestito la maglia del lecce come calcio conosce l'ambiente conosce poi i nomi quindi la vedo contento insomma o fiducioso se l'importante che mi lasciano rodriguez senta e invece la mancata promozione l'ha digerito oppure ancora ancora no ancora sangue speriamo bene grazie buona cena